Buongiorno raga, oggi terzo giorno, ora stiamo aspettando che tutti scendano e prendiamo la metro e andiamo a Louvre così ci divertiamo per mezza giornata lì con tutte le opere d'arte, la gioconda, eh? Proverai a fregarla Vediamo di divertirci a Louvre Qua c'è sempre il mercatino, cioè c'è il mercatino giornaliero evidentemente è predisposta questa zona per fare il mercatino ogni giorno però va bene, cioè monta e smonta, non gli conviene stare fermi qua Comunque, ora stiamo aspettando che tutti siano pronti e poi partiamo per il Louvre Credo che cambio di programma, sto scherzando ora, non andiamo a Louvre ma andiamo al museo dell'arma e poi nel pomeriggio andiamo a Louvre perché visto che nel Louvre mica si può mangiare dentro quindi andiamo al museo dell'arma, lo visitiamo un poco poi pranziamo fuori e di pomeriggio entriamo a Louvre così ce lo gustiamo tutto il pomeriggio fino alla sera visto che qua, ho pubblicato alcune stories ieri tramonta del tipo fa buio che è mezzanotte alle 10, sembrano le 8 di pomeriggio, quindi di sera quindi è fantastico ora vediamo, speriamo che si sbrigano quelli di là a venire e partiamo verso il museo dell'arma siamo appena entrati, stiamo nella parte militare qua con la tomba di Napoleone, questa di qua cioè raga è davvero davvero grande davvero davvero grande qua stanno allestendo una specie di palco non so il motivo in realtà però va bene dopo qui tutti i giardini molto molto belli qua tutta la parte dell'armata va lì in fondo la torre Eiffel perfetto, bellissimo cerchiamo di entrare perfetto raga qua dentro la cupola quella d'oro anche lì soprattutto in oro fantastico raga qui è lì dentro qua non so se posso registrare in realtà quindi prendiamo da questa e andiamo qua qui raga è tutta enorme e qui la tomba di Napoleone eccola qua qui dentro c'è Napoleone e qua una tomba fatta una cappella fatta così c'è la finestra e la luce che mi stanno devastando però grandissimo poi lì quella specie di altare lì eccola là e qua sotto c'è tipo una specie è tipo una cosa sottostante qua ah sto scherzando sarà questa la tomba di Napoleone raga quella di là sarà la tomba di qualcun altro dentro è enorme cioè davvero non riuscite a capire perché dall'immagine non si capisce però è davvero davvero grande quello di là è un crocifisso cioè rispetto a questa di qua questa tomba è enorme va bene qua non si può registrare quindi chiudo l'arrecco qua e becchiamoci non so fuori ma qua è enorme davvero davvero fantastico ragazzi siamo sotto praticamente ed eccola qua tomba di Napoleone vista da vicino praticamente tomba di Napoleone ora non ci sarà più niente di Napoleone neppure non so il profumo visto che nel 1700 è qualcosa quindi ne dubito un poco però gli hanno fatto tipo un monumento da re praticamente cioè ma scherziamo vedete qui mi piace un totto sto posto davvero davvero tanto e raga siamo dentro i musei ma e raga qua ci sono tutti tutte cose ma ad esempio questi qua uno costa 90 euro i cavallini e i soldatini questi qua 50 9 euro 59 euro ma è possibile mai c'è una statuina dall'altro lato che costa 1300 euro ok qua ci sono ovviamente tutte le pistole che costano la bellezza di 120 euro però sono davvero fighe queste di qua però raga ci sono alcune che costano davvero davvero troppo ci sono anche cose belle ad esempio qui il Napoleone a un prezzo notevole di 60 euro un Napoleone così ottimo e qua ci sono tantissime cose libri eccetera poi c'è il libro di Charlie Gold e tutte queste di qua libri storici e tutte queste cose qua tutto ovunque questa parte è soltanto formata da liberi mentre quella prima è tutti gli articoli così poi ci sono pure i carro armati questi di qua per bambini molto fighi questo di qua cosa è? è tipo il caschetto il caschetto il caschetto però sono cattive delle munizioni ottimo l'orologio i veri carro armati qui è davvero figo anche se mi vedete un po' troppo giallo però è figo è figo è figo sì sì tanto ok raga siamo dentro il museo dell'arma ed è qua molto grande con tutti i cannoni accanto questi di qua sono tutti i cannoni tutti cioè vi faccio vedere qua questi di qua da tutte le parti così qua il cannone cioè davvero qua non si vede dentro cioè davvero davvero bello con tutta la scanalatura ed è grandissimo sto posto è un campo di calcio campone 11 con tutti i cannoni laterali davvero davvero molto molto bello ho pure comprato una maglietta quindi fantastico ora vediamo cosa riusciamo a fare cerchiamo pure un posto per mangiare perché già si è fatta una cert ok raga museo dell'arma ultimo piano c'è la spiegazione di tutte le battaglie fatte fantastico e qua c'è tipo le varie spiegazioni qua ad esempio la littorale etlantique e qua raga è tutto pieno dove vai? tutto tutto pieno terzo piano c'è tutta la storia francese tutta qui raga con tutte le cartine gli abiti e quadri davvero davvero bello provo ad esempio ci sono tutti i quadri i soldatini la battaglia di Moscò non so che battaglia sia però la battaglia di Moscò e qua è così ottimo ora proviamo ad andare al secondo piano visto che io raga sono il più veloce di tutti tipo venuto a correre vedo una cosa faccio foto e vado via avanti mentre loro perdono tempo quindi vediamo ci si becca al secondo piano bella secondo piano in questo piano ci sono tutte le armi davvero favoloso spade asce e spade tutto è di più qua cioè guardate questi fucili cioè ma scherziamo troppo belli troppo troppo belli qui cosa c'erano abiti e la spada non so di chi va bene va bene ci sta e ancora qui non siamo neppure all'ouvre anche se sono lune di pomeriggio quindi questi due piani ce li dobbiamo fare velocissimi con tutte le pistole bellissimo bellissimo qua molto ma molto bello qua con i cannoni in miniature fantastico primo piano carro armati e tutte le cose del caso vediamo vediamo un poco qui guardate quant'è l'onda vediamo lì di fronte dopo qui tutti i soldatini ragazzi non potete capire soldatini 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 cioè tutti 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 soldatini ma davvero anche qui centrale raga sono tutti soldatini ok va bene ottimo migliaia e migliaia di soldatini messi qua fantastico bellissimo questo piano mi è piaciuto davvero un tot anche se siamo stanchissimi raga infatti ora scendiamo e cerchiamo un ristorante perché dopo dobbiamo andare a Louvre e lì c'è tanto a visitare bello ok raga siamo sotto il ristorante sotto il Louvre nei vari ristoranti quelli là sono tutti i ristoranti e io ho preso la paella col pollo gg raga ora siamo abbiamo finito di mangiare abbiamo mangiato di nuovo il ristorante e ora siamo a Louvre con la fantastica piramide questa piramide è criticata tantissima perché non c'entra niente con tutta l'architettura qui accanto però raga è fantastico fantastico ora entreremo ovviamente nel Louvre speriamo perché la fila raga è un bel entra il Louvre e questo di qua le cose che andremo a vedere tutti i quadri eccetera ora andiamo a fare i biglietti e vediamo se possiamo entrare sono curiosissimo eccoci qua dentro tra poco arriviamo alla Gioconda questa è quella delle stanze prima raga con tutti i quadri c'è il riflesso della luce di sopra però è bellissimo c'è tutti i quadri appesi ora stiamo per arrivare alla Gioconda quindi fantastico bellissimo qua davvero davvero bello raga siamo in una delle sale più importanti dell'Louvre più visitate cioè quella della parte della pittura italiana raga è un corridoio enorme dove alla fine c'è lì sotto nella Gioconda cioè almeno penso perché qui raga è davvero davvero enorme con tutti i quadri famosi Giotto Picasso grandissimi per le entrate raga da questa parte c'è questo quadro enorme davvero davvero tanto dopo qua tutti i quadri tutti i quadri e lì sotto la Gioconda lì sotto la Gioconda ora andremo a vederla da vicino però raga è stranissimo cioè c'è tutta la parete e la Gioconda da sola grande e raga eccola qua la Gioconda in questo mure enorme c'è la Gioconda ottimo fantastico raga è troppo piccola rispetto a quei quadri là sotto ad esempio però è fantastica ehi raga stavolta siamo usciti perché sta chiudendo infatti ci sono tutte le persone fuori praticamente e in questo momento sono sotto la piramide quella una delle più famose è quella che vi ho fatto vedere poco fa da fuori quindi per ora ci cerchiamo di riunire perché il mio padre siamo andati da soli che eravamo molto più veloci mentre gli altri ci hanno abbandonato e ora ci cerchiamo di riunire cerchiamo un posto per mangiare perché dobbiamo andare ad un hotel presto perché domani c'è Disneyland quindi bellissimo qui questo museo il museo più importante del mondo il Louvre davvero davvero bello tantissime opere peccato che non l'abbiamo visitato tutto però abbiamo visitato tutta la pittura italiana la scultura greca e la parte egizia molto ok raga eccola qua una stanza sotto il Louvre vediamo vediamo qua raga è una stanzone enorme con tutte le scritte ora vediamo se si riescono a leggere qui le scritte e raga è fighissimo questo posto davvero davvero molto ma molto figo raga qui nei giardini fuori fuori è il Louvre ora ci mettiamo le gambe in spalla e prendiamo tre metro e poi con la funivia saliamo alla Bastille de Sacre Caire un'altra cattedrale molto importante speriamo di fare presto perché già sono le 19 sono le 7 e 10 quindi dopo cercheremo qualche ristorante lì e vediamo cerchiamo di arrivare salvi e salvi lì con la funivia che ci porterà fino alla Bastille no non è la Bastille è la cattedrale de Sacre Caire non mi ricordo raga ora stiamo prendendo la metropolitana e questo arco questo di qua è allineato con quello l'arc di sotto lì sotto non si vedrà mai raga ma ancora non riesco a vedere io e alla defensa ancora più lontano dove siamo stati gli altri giorni nei tre archi praticamente sono tutte tre allineati quindi questa cosa è davvero fantastica lì raga c'è il Louvre lì con la in realtà tutto questo è Louvre però lì è tutta la piramide cioè guardate quanto è bello grandi si boh ok raga siamo qui praticamente siamo usciti dalla metro qua sotto e ora saliremo tutto di qua fino alla sotto e poi prenderemo la metro e saliamo lì sopra dove c'è quella cupola lì che è che è la la cosa dei sacred care quindi vediamo siamo stanchissi abbiamo preso tre metri e ora dobbiamo prendere pure la funivia grandissimo ok stiamo per prendere la funivia verso la l'alco se prenderemo questa di qua vediamo che panorama si vede lassù ok raga eccoci arrivata la bastide del sacred care ecco qua questa di qua è la visuale che si vede raga è troppo bella tutta Parigi tutta Parigi non sto scherzando qui sorry stiamo investendo un tizio qua la bastide del sacred care delle bastide raga più importanti ora guardate qua qua stanno provando tutto per uno spettacolo non so il motivo ed ecco qua tutta la visuale di Parigi raga è fantastico lì sotto ci sono ci sono tutte le cose che abbiamo visto Notre Dame la Torre Eiffel anche se in questo momento non li riesco a vedere molto bene però ci sono tutte le altre e qui in vero danno tutti un po' troppo male perché sto parlando a una telecamera forse qui non l'hanno ben capito la questione mi guardano tutti malissimo però me ne prego comunque è fantastico qua c'è una visuale da paura bellissimo la bastide sacred care questi qua tutto non so se posso riprendere perché io riprendo lo stesso questi qua la cupola tutto così enorme qui raga è davvero tutto tutto grande 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 molto molto bello lo vediamo qua non posso riprendere quindi bella ok raga abbiamo finito era l'ora di mangiare io sono stanchissimo stanco morto sono le 11 di sera io ho mangiato una pizza davvero buona ora ci dirigiamo verso la metro ne dobbiamo prendere 3 quindi la strada è lunga per ritornare a casa è tipo 45 minuti comunque per questo giorno per questo terzo giorno da Parigi è tutto domani mattina andremo sveglia prestissimo alle 6 perché andremo a Disneyland quindi ci si becca domani bella bomber a domani